Prima le ingiustificate minacce, poi una spinta e l'accerchiamento, sino all'aggressione vera e propria con calce e pugni. Da qui in poi è una cronaca già scritta diverse volte ma che torna strettamente d'attualità appena fa capolino l'estate e si torna nei locali da ballo. Un branco di non meno 15 persone, come ci riferiscono diversi testimoni, ha selvaggiamente picchiato un giovanissimo ragazzo andriese di 21 anni nella notte tra sabato e domenica all'interno di un locale di Biceglie dove si era recato per passare una serata con altri amici. Il giovane ancora approvato dalla disavventura sporto denuncia presso i carabinieri di Biceglie contro i gnoti e ne avrà per non meno di 15 giorni come da prognosi del pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andrea. L'aggressione come spesso avviene senza un apparente motivo ma semplicemente come ci racconta lo stesso 21enne solo perché in preda ad alcol o chissà quali altre sostanze. L'aggressione è avvenuta attorno alle 2.30 nel pieno dello svolgimento della serata i carabinieri hanno già acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza del locale per verificare gli avvenimenti nel dettaglio ed individuare gli autori dell'aggressione, una pratica che potrebbe rialzare la testa proprio nei luoghi più frequentati dei giovani e giovanissimi nei quali sarebbe assolutamente necessario prevedere ulteriori misure di sicurezza per evitare problemi di questa natura.